La senti questa voce? Bene ragazzi Allora Oggi si parte così, a schiaffo Devo menarti? Dove andiamo? Andiamo ad Aosta, da Romain Romain? 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 Sì Libraia storica, nel senso che arriva da una famiglia di librai Ha due librerie ad Aosta E sono curiosa di vedere In realtà noi ci siamo conosciute ad un Ma magari te lo racconto dopo mentre parliamo Dalla storia di Romain Noi adesso andiamo Tu ti annoierai un po' perché sono solo due ore di viaggio Purtroppo mi dispiace non farti arrivare fino a Catanzaro in un giorno e tornare indietro Però amici di Catanzaro se volete lui guida volentieri Magari Catanzaro quindi all'aereo Comunque, e niente, quindi adesso ti do l'indirizzo Sì, e speriamo di fare tutto il viaggio in serenità senza dirubbi universali Perché Danno pioggia ad Aosta Infatti Qua a Milano c'è il sole, è un po' nuvoloso ma è da qualche giorno Ci siamo? Ti dice 2.14 ma è 2.05 Io quindi vado col cellulare in questo tuo navigatore Va bene, ci vediamo lì Va bene Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto bene? Tutto bene, ma soprattutto non so se hai notato. Cosa ho notato? Te lo devo ancora dire. Ah. Non so se hai notato che... Allora, non so se hai notato che... Quando il viaggio è breve... Ti si ferma con più... Subito? Cioè, 4 minuti, caffè, dai, va bene, caffè. Quando invece hai 26.000 km, cioè ti fermi dopo 8 giorni, di solito. Uno cerca di, come si dice, di spezzettare il viaggio proporcionalmente al fatto che questo sta andando contromano. Bravi! Ci siamo fatti una piccola sosta in quel di Novara Nord. Siamo pronti a ripartire. Un'ora e 21 all'arrivo ad Aosta. si dove abbiamo trovato probabilmente probabli probabli se non sono chiusi per ferie no no ad Aosta scusami ma non è un posto ma no nel senso non è un posto dove va la gente in vacanza e quindi mica si chiude non lo so ma io non sono mai stato ad Aosta io si sono andata a presentare Sì sono andata da Romena a presentare il libro precedente qui considera non ci vediamo da sei anni ero alta l'ultima volta non avevo neanche i capelli bianchi ma lecchiai effettivamente fa imbestialire e quindi sì non ci vediamo da da sei anni sono andata una volta quindi non so me la ricordo molto molto carina con queste mura bello 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 Sì c'era un operaio col sombrero bellissimo fantastico ed è subito a bombarle l'effetto giusto con sto caldo immaginate sto povero Cristo ed è uno dei lavori peggiori secondo me ma poi che tenere li stanno stanno dipingendo i cosi che sono gialli così uno li vede di verde così uno li vede di notte bravi ma perché si dice sempre che comunque bisogna guardare al verde alla natura e tutto fingiamo cemento verde l'altro giorno ho scoperto perché ci sono i piccioni disegnati su questi non lo sapevi no tu lo sai certo perché altrimenti i piccioni non vedendolo si schiantano invece vedendo un altro piccione nella loro testa non mi avvicino perché c'è già un altro piccione è proprio con gli amici degli spettatori perché non lo sapevi eh non lo sapevo e come l'hai scoperto non me lo ricordo lo sai a proposito di piccioni questo è un momento un po' cazzeggio momento delirio della libraia o fobie io ho paura dei piccioni ma paura vuol dire che se vado in duomo urlo appena un piccione capito si avvicina per sbaglio inizio a saltellare e a fare cose salute a me salute e quindi ogni volta mi spavento se lo vedo in giro se sono seduta a un tavolino e se avvicino a un piccione urlo isterica quindi cosa accade sempre per le leggi di Murphy se hai paura dei piccioni? i piccioni ti cercano certo no? ma non solo ti cercano se sei in giro potenzialmente questo con la moto cosa vuole? ok non lo so non lo so il piccione non ti si avvicina quando sei in giro cioè proprio ti viene a cercare entra in libreria ah si me la ricordo questa storia la racconta la racconta si si questa ragazzi cioè secondo me lì è stata è stato l'inizio della fine cioè lì è stato il segnale che qualcosa went wrong si si something went wrong e del tipo ok da qui te ne andrà secondo me il piccione è venuto a dirmelo perché io quando ho aperto una libreria ho sognato un'aquila bellissima che non mi aveva fatto paura e che quasi mi ringraziava il piccione è un'aquila si però è un volatile però io ho paura dei volatili mettiamola così proprio dei volatili vabbè quindi insomma quando c'è sempre questo queste ali che tornano in qualche modo forse me le tatuerò nelle ali strane adesso vediamo comunque sto aprendo 26 parentesi tornando al piccione che è entrato in libreria e a differenza di altre richieste strane non voleva né filo da pesca né altro io ho sentito solamente BAM fortissimo ma non è mai scoppiata una gomma fuori è successo qualcosa non ci ho fatto caso inizialmente quindi ero alla scrivania che stavo inserendo gli ordini a pc dopo un po' vi dico ti 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 in realtà non era un piccione ma un passerotto che era sui libri quindi io lascio il passerotto in libreria scappo fuori e inizio a urlare a chiedere aiuto fortunatamente accanto c'era una ragazza che lavorava che non aveva paura di volatili e altro quindi dico ti prego Camilla è entrato un passerotto in libreria aiutami a prenderlo cioè portamelo via e gli ho detto hai volato sopra la libreria del BAN cioè sei proprio la libreria scomparsa quindi questo passerotto era volato lì lei si avvicina per prenderlo con un sacchettino dell'esse lunga lo tocca ma è morto praticamente povero passerotto passerotto non andare via aveva picchiato contro il vetro non è proprio andato via mai più no aveva picchiato si era spezzato il collo contro il vetro quindi nella prossima libreria metterò anche io i piccioni esatto messi così dicendo guarda che ti spacchi la pezza esatto esatto e niente quindi si è ammazzato cioè è morto in libreria è morto in libreria quindi lei l'ha raccolto quasi piangendo perché effettivamente faceva tenerezza è arrivato lì ed è venuto a morire in libreria dopo il piccione in libreria è arrivato il covid è arrivato lo spratto e niente quindi secondo me quello era un segnale a me una volta ho anche un aneddoto sui piccioni si è successo l'estate scorsa non so se ti ricordi che un giorno torno a casa vado in cucina e c'era un piccione che mi guardava così oh cazzo Ron sopra è vero no io potrei ecco io per una cosa del genere do poco alla casa non era un piccione era un colombo era bianco era ma mi guardava così ma si no ti prego che poi ti guardano sempre con quest'aria come per dire oh allora mamma mia eh si e non ricordo poi ho chiuso la cucina e lui è volato via meno male meno male che ho chiuso la cucina e lui è volato via senza scacazzare in giro fortunatamente no mamma mia però era bellissimo perché era lì bianco sopra immobile non è che stava facendo era immobile in piedi e così io per una roba del genere potrei morire di infarto eh quindi cos'è che ci vuole cos'è che ci vuole poi ci racconterà altro com'è che si chiama romen romen tutti i nomi strani avete liberaie romen clorinda eh lilith è vero eh com'è questa storia Shanti eh Cristina 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 tra l'altro è più strano di tutti eh lo so e ci ha raccontato altro? ci vuole raccontare Romen ha due librerie appunto la sua libreria si chiama Brivio come? Brivio Brivio? si sono due librerie ha anche la parte di cartolibreria fa scolastica ed è in realtà una libreria storica di famiglia quindi lei viene da una famiglia di librai si e ha avuto un passato di libreria in franchising quindi non è nata come libreria indipendente o forse non so se sia nata come indipendente è passata al franchising e tornata ad essere indipendente questo glielo domanderemo e e adesso è ha deciso appunto di sganciarsi dal franchising quindi di non essere più una mondadori ma di muoversi con le sue gambe e quindi cambia proprio tantissimo non tanto come percezione ma proprio nella gestione del lavoro perché io non sono per etichettare se sei una libreria di catena no capace se sei indipendente sì perché a monte sei una persona motivata con passione brava in gamba che lavori in una libreria di catena in un franchising in un indipendente quello è cambia proprio come tu puoi gestire il tuo lavoro al tuo tempo perché se sei un franchising anche se la libreria è tua nel senso che è intestata te l'hai aperta tu ma ti sei appunto affidato al franchising scegli fino a un certo punto ci sono delle dinamiche che alle quali devi sottostare per forza giustamente intanto manca un'ora e 03 all'arrivo siamo perfettamente in linea con quello che avevamo previsto 98 km l'arrivo previsto 13,09 la temperatura esterna è di 30 gradi secondo me anche un po' di più in realtà però ci stiamo muovendo e quindi è così tra 3 km e 2 c'è il raccordo per Santiago, Montebianco e Brennero che noi dovremmo prendere fa ora in onda lo stradario di Andrea Spampinato bellissima quella canzone tra l'altro è di un gruppo che ha un nome stranissimo che si chiama oh mamma mia non mi viene in mente I don't know e... cavolo è un nome strano che sembra latino una roba del genere ma no ma non è latino è tipo Deus sì una roba è bellissima ascoltatevelo tutto perché tra l'altro ha una parte avranno capito cosa andare a cercare ha una parte di free jazz dentro eh vabbè ma è la sigla del del meteo del meteo era era la sigla del meteo degli anni eh ma non stai dando le coordinate guarda su Youtube sono i giovani allora facciamo il momento Google eh sigla sigla meteo anni 80 eh sì mi sembra che fosse anche prima degli anni 80 però sì meteo rai anni 90 può essere come si chiama il gruppo aspetta che tempo che fa? fammi vedere non la trovo mannaggia comunque ve lo scriviamo qui come si chiama la canzone così almeno e se non la trovi? la trovo la trovo ce l'ho salvata tra i preferiti ma non mi ricordo quali preferiti i preferiti della vita è bellissima bellissima ci siamo? sì sembra di sì ok siamo arrivati praticamente qua mancano 900 metri al parcheggio della libreria e quindi che posto ragazzi che posto che verde bellissimo mamma mia stiamo ancora registrando? sì ok spengo? sì arrivati allora vi avremmo voluto portare in giro per Aosta ma per la prima volta nel mondo? non c'è mai successo no per ora nel nostro tour trascabile no giusto quindi temporale temporale significa non poter andare in giro ci siamo chiusi nel bed and breakfast e abbiamo aspettato spiovesse finalmente ha smesso anche perché tra pochissimo c'è la presentazione sì pochissimo e quindi adesso vi portiamo alla libreria di Romain vi racconteremo un pochino la sua storia infatti perché c'è gente che ci guarda e dice ma che cazzo sono? che cazzo sono questi qua con la videocamera? non lo sappiamo neanche noi non lo sappiamo neanche noi e quindi stiamo per arrivare alla libreria di Romain che ci racconterà la sua storia poi magari dopo se abbiamo tempo qualche ripresina eh sì se il tempo è clemente come in questo momento sì esatto perché purtroppo ha piovuto però è bella Osta per quello che hai visto bellissima sì molto allora niente entriamo in questo tunnel e andiamo a scoprire la libreria mi permesso ciao Cris e dopo sei anni ciao Andrea yeah ciao tutto bene? bene bene abbiamo aspettato smettesse di piovere ciao Barbara piacere piacere ok allora siamo qui con Romain grazie mille intanto per l'accoglienza sono contentissima di essere tornata a distanza di sei anni non è che ogni volta ci deve essere un libro però te lo dico cerchiamo di organizzarci diversamente vero vero Cri perché mi sei mancata tanto ecco stavo raccontando prima in realtà che la tua è una storia di librai perché comunque arrivi da una famiglia di librai e sei vissuta in mezzo ai libri sì sì assolutamente ma tipo da bambina venivi qua spulciavi rubavi cose rubavi copie guarda ho delle immagini di mio padre che mi legge tanto mio papà è tuttora un affabulatore un racconta storie e mi passevamo i pomeriggi in libreria e lui mi leggeva tanto mi ha sempre tanto letto vedi che bello e soprattutto poi di librerie Brivio qui ad Osta ce ne sono due e stavamo raccontando venendo qui che avete avuto un passato un passato anche di franchising e siete tornati ad essere indipendenti cosa significa per te? eh grandissimo orgoglio sì non smetterò mai non smetteremo mai credo di festeggiare questa cosa perché se da una parte come ti dicevo dal punto di vista economico un po' ci ha aiutato questo periodo con il conto deposito certo poi dopo le briglie si sono fatte sempre più strette no? le maglie e addirittura ricordo che io ho sempre avuto un cane che portavo in libreria e uno degli ispettori dei commerciali di Mondadori un giorno mi disse guarda che non è più il caso che tu lo porti perché non è professionale non è zero quella cosa mi ha ulteriormente convinto del non rinegoziare il contratto per cui a scadenza contratto con grande difficoltà prima in una libreria in quella in Corso Lanceri e poi in questa libreria siamo tornati indipendenti liberi un po' affaticati perché sicuramente non nascondo che il conto deposito aiuti perché vendiamo vendiamo passami il termine una merce il libro non ci farà mai ricchi economicamente certo ci farà ricchi ci fa ricchi di tante altre cose che che bastano ecco e però con grandissimo orgoglio liberi che bello liberi di portare tutti gli animali del mondo in libreria gatti ne abbiamo? ne avevamo uno ne avevamo uno che è venuto a mancare a giugno dell'anno scorso libro vedevo delle foto bellissime però è immortalato per sempre lui insieme al mio cane storico che è mancato sono mancati a distanza di 6-7 mesi prima il mio cane a ottobre del 2020 desmo e libro dopo appunto a giugno del 2021 sono nel nostro logo il logo che ha disegnato mio padre vedi che tutto torna la famiglia torna ma a proposito di padre di madre eccetera di questa storia di librai cosa ne pensano delle librerie oggi? dove stiamo andando secondo loro? avendo no? un passato così importante da librai è una storia totalmente diversa totalmente diversa loro mi appoggiano molto mi aiutano mi danno grandi consigli mia madre mi aiuta proprio ci aiuta perché sono io con dei soci e con dei collaboratori dei colleghi ci aiuta ancora tanto ci da dei consigli e soprattutto perché io in matematica sono proprio negata vatti 5 adesso perché sono dietro la videocamera però io sì ho scelto di vendere libri perché mi occupo di parole non di numeri ma questo è un grandissimo errore perché uno bravo non lo fa però capisco loro dicono che sicuramente e ci sono molto spesso le presentazioni oggi purtroppo non ci saranno ma per impegni progressi loro dicono che far incontrare la storia lo scrittore del cuore al pubblico ai lettori è sicuramente una cosa impagabile che premia sempre mi dicono di fare molta attenzione perché di fare attenzione appunto sulla gestione della libreria quindi una volta si ordinavano pile immense adesso non è più quel tempo anche perché i libri arrivano molto più velocemente è possibile rifornire è possibile ecco una libreria sempre in movimento quindi rese, riordini questo magari fino a sei mesi fa si vendeva tanto aveva un buon pubblico adesso magari meno guarda c'è questa finestra c'è questo autore questa autrice loro sono dei fortissimi lettori i miei genitori e loro mi dicono questo funziona italiani o stranieri? leggono tutto? soprattutto italiani ma anche stranieri però soprattutto italiani che bello ma anche io voglio tipo mamma e papà librai no non è vero con tutto il bene per i miei però effettivamente è anche bello potersi confrontare c'è qualcosa che ti è stato detto da un lettore o da una lettrice che porti nel cuore che ti dice vedi che ho fatto la scelta giusta ma a me stessa sicuramente io sono io avevo la tua storia che conoscevo ben prima di leggerla sul libro mi ha molto mi ha molto toccato sempre no? e io nasco ho studiato per fare l'infermiera professionale io ero un'infermiera oncologica ho sempre detto che non avrei mai fatto il lavoro dei miei genitori per partito preso te lo giuro perché li vedevo sempre in libreria sempre comunque un po' preoccupati poi noi abbiamo avuto un'alluvione abbiamo avuto momenti abbastanza difficili perché comunque siamo in piedi da 48 anni capito ehm poi appunto te la cerco di fartela breve no no ma vai tranquilla mi hanno ho avuto dei volevo fare dei volevo fare un corso di specializzazione a mie spese ma chiedevo un chiedevo una una come si dice una aspettativa non retribuita me la facevano cadere dall'alto mi mi sono venuti tre minuti e ho preso la macchina ero smontante notte e sono andata a licenziarmi prima sono andata a parlare con mia mamma perché volevano vendere uno delle due librerie erano un po' stanchi e gli ho letto ascolta io ho sempre detto di no ma magari invece sì vorrei provarci mia madre mi ha detto sì va bene ricordati che però parti da parti a fare le pulizie prima di servire i clienti ne passerà fai la gavetta e l'ho fatta e a distanza di quest'anno compio 24 anni questa è la mia vita ma che bello ma ti ricordi quindi il primo libro che ti è stato permesso poter consigliare qual è? eh io ruo al dal nel cuore ruo al dal è per me una magica medicina per tanti mali del mondo e ricordo che appunto al mio primo cliente al mio primo piccolo lettore ho passato uno dei libri storici per me che è le streghe di ruo al dal questo piccolo lettore lo incontri ancora? sì cosa fa adesso nella vita questo piccolo lettore? credo sia un ingegnere capito? le storie perché poi le librerie quando ora sono nel tempo cioè te ne rendi conto proprio perché magari i lettori che hai visto crescere sono diventati no? appunto ingegneri o altro nella vita però sanno di poter tornare in quel posto fatto di storie che li ha iniziati alla lettura e che li accompagna perché poi le librerie sono questo no? si crea un legame si si crea un legame adesso succede che spesso magari si sono trasferiti altrove ma ogni tanto vengano proprio in libreria perché gli sembra di tornare indietro nel tempo noi poi facciamo anche tanta scolastica voi siete pazzi magari gli abbiamo fornito i libri scolastici anche negli anni e diventa proprio un punto un punto di riferimento della vita ecco perché magari sei andato a vivere altrove hai una famiglia altrove però quando ritorni hai piacere di ritrovare quelle storie è anche bello quando dopo le streghe vengono adesso che cosa mi dà? eh sì certo quella è l'altra pozione quella è l'altra magica medicina esatto e a distanza ti capita che magari persone che appunto sono state qui fino a poco tempo fa o magari si sono trasferite ti tengano come libreria a distanza? cioè riesci ad arrivare con i tuoi pacchettini altrove? sì 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 soprattutto devo dire con nuovi clienti nuovi lettori perché sono magari venuti alle presentazioni da Torino piuttosto che o magari gli autori hanno raccontato sui social insomma che non si sta proprio malaccio qui da noi e allora ci contattano e siamo diventati librai anche di fuori sì sì librai a domicilio è così ormai le librerie sono anche queste le librerie vengono a citofonarvi a casa ragazzi quindi mi raccomando diteci solo qual è il numero se c'è un codice e non il cognome e noi arriviamo che manco i testimoni di Geova ormai il citofono è dei librai sappiate grazie mille Romain per questa chiacchierata grazie a voi e per averci ospitato noi adesso faremo qualche ripresa del posto e andiamo a cercare Roaldana vediamo se ci viene in aiuto il mitico esatto grazie grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie 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 firma coppie augusto dove troviamo una colazione senza glutine? siamo tappa da erbavoglio che abbiamo conosciuto ieri alla presentazione perché avete avuto questa idea insieme a Roma è bellissima di abbinare libri e cibo cibo di qualità cibo del territorio e quindi non potevamo prima di partire non fare tappa qui da voi ci raccontate un pochino come nasce Erbavoglio perché Stefano ci stava già raccontando che rispetto al suo percorso di studi poi Erbavoglio è nato da lontano è nato da lontano come è iniziato tutto è iniziato sono dieci anni che esiste la latteria qua in centro ma è nato da un po' prima perché mi occupavo di pascoli e mi sono lavorato in scienze forestali un po' gli annetti fa e ho lavorato tanto sul territorio valdostano andando a cercare e valorizzare le produzioni del territorio quindi questa idea di cercare i prodotti aiutare le aziende a crescere a trovare delle vie nuove anche per fare dei prodotti interessanti sul mercato valdostano c'era già ai tempi quando facevo professionista e l'ho fatto per dieci anni poi l'idea di concentrare in una bottega quelle che erano le idee che venivano fuori è stato il passo successivo e quindi è nata la bottega Erbavoglio che nasce proprio dall'idea di raccontare il prodotto dall'inizio quindi dall'erba sono i pascoli che fanno la differenza e quindi da lì raccontare i pascoli di montagna in valle siamo ricchissimi tante produzioni diverse e concentrare in una cantina in centro città mentre stavamo facendo il giro appunto in cantina esplosione di profumi pazzesca mi hai detto questa cosa proprio legata ai vini ma lo si fa col vino che cambia in funzione di dove viene appunto nelle botti eccetera col pascoli la stessa cosa è proprio la stessa cosa perfettamente siamo meno abituati a farlo però spesso raccontiamo un formaggio con il suo nome sicuramente sì ma lo decliniamo meno dei vini tante volte sui vini sono stati più bravi di noi nell'ambito formaggi nel raccontarsi e nel raccontare dei cru pendenza diversa suolo diverso e quindi la pendenza cambia le cose assolutamente sì a livello di esposizione sui e qua su entra anche guido come funziona fondamentalmente sui vini cambiando esposizione cambiando pendenza cambiando suolo hai delle caratteristiche diverse anche su un vigneto che hai cento metri di dislivello tra l'inizio e la fine cioè i cento metri cambiano le cose cambiano le cose ma tantissimo assolutamente sì e sui pascoli comunque la situazione è molto simile perché in trevento dell'uomo è importante a volte troviamo delle praterie alpine che ci piacciono un sacco delle fioriture in quota incredibili ma non è la natura è l'uomo che interviene chiaramente col pascolo con le fertilizzazioni col taglio e quindi otteniamo dei prati diversi e la valle d'osta ogni vallata ha delle caratteristiche diverse perché abbiamo veramente una varietà geologica particolare livelli di quota diversi e quindi se la fontina piuttosto che altri altri formaggi importanti che vi sono sotto in cantina viene fatta a mille metri piuttosto che a duemila cambia letteralmente quindi noi dobbiamo raccontarlo è la storia nelle storie infatti ieri parlando con Guido hai detto 40 anni di storie sulle spalle 40 anni 40 anni di osteria e notteca osteria ho smesso perché ero a fine corsa ho smesso per aiutare Stefano perché di storie comunque non è mai abbastanza adesso hai teclinato in un altro modo la storia che devi raccontare sto facendo quello che facevo prima nel mondo formaggi di provare a vendere emozioni è un mondo incredibile e molto simile molto simile anche librai ne parlavamo ieri sera ho sentito delle tue cose delle tue affermazioni sulla sul cliente riuscire a capire il cliente che entra la prima volta cosa vuole fare è stato nel mondo vino è stato con i formaggi per cui decisamente interessante e voi adesso c'è un sito un sito internet voi spedite in tutto il mondo per adesso la concentrazione è sull'italia a livello di spedizioni e quello che siamo ci stiamo organizzando piano piano chiaramente anche avere la certezza delle consegne è un prodotto delicato quindi adesso sappiamo che nelle 24 48 l'italia la raggiungiamo tutto e siamo tranquilli piano piano ci lavoreremo anche sulla parte per le persone che guarderanno il video possiamo dire attenzione questo è il link e arrivano in tutta italia possono venire a trovarci da casa diciamo sul sito certo venire qui è un'altra cosa anche perché ci hai fatto a vedere un altro luogo che poi metteremo nelle immagini nel senso che c'è una stanzetta speciale dal piano di sotto dove succede il nostro rifugio l'idea di ecco di collaborare ha cresciuto insomma la proposta legata all'abbinamento vini formaggi salumi piuttosto che in una salettina sotto in cui possiamo sperimentare e ospitare fino a una decina di persone massimo che mi chiamano vi dicono esatto super notazione esatto molto gestionata quanto tempo prima bisogna chiamarvi avete una lista della fina 2025 per quella prenotazione comunque diciamo che è obbligatoria soprattutto per trovarci magari c'è la saletta libera ma non ci sono anche se abbiamo due ragazze stupende però vabbè vuoi mettere anche esserci durante serate del genere non si può perché c'è un video stavo per chiedere la cosa che è assurda che è successo in quella saletta ma forse la facciamo a telecamere spette è stata veramente una grande macchina dei suoni quella macchina dei suoni dei suoni ho capito dei suoni perché siamo riusciti a tornare indietro nel tempo degustando cose vecchissime buonissime sempre abbinate con i formaggi che che vedete in questo van dovessi chiedervi a testo un abbinamento fino formandoci guarda dovessi darvi un consiglio oggi io stefano vi consiglio questo insieme a quest'altro allora vado io il tuo preferito è nel senso ma è che sta piacendo tantissimo in questo momento è il blu di pecora siamo anche qua in montagna nella val d'agliasse piedi al monte rosa blu a pecora dolce con queste queste screziature che danno intensità quindi parte di fungo mix pazzesco e qua un bel bianco val d'ostano con una bella mineralità mi piace tantissimo può andare anche verso un passito quindi anche una vendemmia tardiva può essere un bel modo per terminare una degustazione a fine serata se no se inizio con quello se sono già distrutta dal principio per non ammazzare i sapori e coglierne no assolutamente si è un crescendo quindi la nostra insomma quello che proviamo tanto lo abbiamo provato anche per delle serate fatte proprio in occasione di feste legate al vino piuttosto che formaggi quello di assaggiare scegliere qual è la il miglior percorso è il tuo percorso dove ci porti il mio percorso che ci porta sempre rimandendo ovviamente su quello che vale d'aosta partirei dal vino per cui con un torrette torrette però classico di zona sen pierre un vino rosso ricco ricco molto equilibrato con notti di sua maturazione e non possiamo non parlare della fontina dal peggio parere dei formaggi valdostani conca di b zona migliore di pascoli per quello che è il mondo della fontina tanta roba e e poi da lì nascono mille altre piramenti ragazzi non vi resta riuscire ti hanno convinto sto gesto e silenziosi non perché non abbia microfono è perché è rimasto così scioccato basito emozionato da tutto questo si riprenderà tra sei mesi grazie mille per averci raccontato un pezzettino di storia perché è perfetto non ti preoccupare erba voglio qua vi mettiamo tutti i riferimenti è stato un piacere grazie a voi prova 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 ciao sono cristina di canio sono cristina di canio io sono cristina di canio va bene ok siamo di rientro siamo partiti da poco come abbiamo detto poco fa circolazione eccezionale e io quel coso lì non l'ho capito non neanche io non si capisce dove devi andare per andare dove devi andare dove devi andare l'importante è che ci siamo andati sì quindi ragazzi a osta promossa a osta tanta tanta roba bello bello proprio l'incontro le persone le storie che sono venute fuori i progetti i progetti che chissà perché si può dire che di questi incontri poi le cose più belle sono proprio ciò che nasce con le persone i dialoghi quando sai hai voglia di chiacchierare un po mi stava accadendo tutto adesso non diremo cosa abbiamo avuto in mente perché prima non si fa poi valutiamo l'ho visto e però bello prima volta di presentazione sotto la pioggia c'è un momento anche con gli ombrelli sì 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 ci sono delle foto secondo me che sono venute molto bene sotto con tutti gli ombrelli la presentazione e quindi sono contenta perché ogni volta che c'è la possibilità di parlare di storie libreria di libraie scusate il mio telefono storie di libreria di librai eccetera è sempre sempre bello quindi poi se sono quelle pause che ci stiamo prendendo dagli scatoloni da fare esatto quindi sì è verde quindi adesso abbiamo due ore e otto minuti 195 chilometri per arrivare di nuovo a la maison e sai che per pranzo potremmo mangiare delle cose molto buone cioè sai a cosa mi riferisco dei formaggi forse mi sa di sì perché abbiamo un carico dei finocchi faccio tipo dei finocchi al bowling finocchio al bowling formaggino e via e via passa la paura che posti ragazzi bellissimo non ha fatto neanche particolarmente caldo no è vero si sta bene è vero che sono le 11 del mattino e ci sono 25 gradi fuori quindi effettivamente va bene ragazzi noi ci godiamo questo spettacolo con queste splendide montagne davanti a noi e questa autostrada di 200 km circa e ci vediamo al nostro rientro a Milano si anche perché la prossima tappa è si pietra santa prossima tappa andiamo in Toscana la prossima tappa ho ottenuto le immagini si va bene spampi buon viaggio buon viaggio a te eccoci ragazzi siamo quasi arrivati a casa siamo quasi arrivati alla alla fine di questo viaggio come è andato è andato bene e spampi non lo non lo avrei mai detto no non ho dimenticato niente ma devo darti ragione ebbene sì avevi ragione sulla benzina perché ti ho detto ma no ma che te frega ma poi la facciamo in autostrada ma poi la facciamo verso Milano allora se dovete fare benzina andate da Osta andate da Osta non però c'è autostrada in città in città la benzina a Osta costa 1,702 1,702 o 720 1,720 a Milano costa 2,3 decidete voi perfetto non si capisce adesso questa la deve smettere però ti giuro adesso scendo e le tiro una i capelli no no pensavo la portierata in faccia ma perché io ve l'ho detto a Milano ad agosto la gente crede di essere al Mugello cioè non ce n'è la gente crede di saper guidare meglio di tutti cioè sei rimasto a Milano perché sei un corridore di Formula 1 ma no ma non è che sa guidare meglio di tutti non se lo crede questa cosa qui è proprio che non è capace quindi ha problemi di specchietti di cose poi l'importante è avere il crocifisso sullo specchietto no no è così capito? forse è per quello lei non vede gli specchietti perché il crocifisso attenzione il crocifisso come si dice offusca un po' non lo so che fastidio cioè è stato un viaggio talmente tranquillo fino adesso poi arrivi a Milano e devi litigare con tutti con tutti state a casa? cioè partite? ma poi è l'una e un quarto cosa fai in giro? vai a mangiare la stessa cosa potrebbero dirle di noi ma noi stiamo trovando un viaggio ma anche loro magari ma insomma figurati dai qualora c'aveva Rimmel in mano era pronta a truccarsi e qualcosa rimane tra le pagine chiare eh? recitazioni così tu mi dici una parola e io ti canto una canzone Rimmel di Gregorio bellissimo comunque siamo arrivati molto molto bello molto bene che caldo c'è? 31 gradi dai fattibile 31 gradi fattibile oggi fattibile speriamo perché magari adesso ne sentiamo 65 sulla pelle però quella percezione dici ma cioè oggi abbiamo sentito cosa sia veramente l'umido cioè siamo usciti in una candina 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 di là c'è posto all'ombra che aveva come umidità il 90% però giustamente dovevano stagionare i formaggi ma noi non siamo nati formaggi no vero? no quindi siamo arrivati ragazzi siamo arrivati incredibile incredibile ci abbiamo fatto anche questa volta eh? quindi erano qua oggi a registrare chi era a registrare? il video che mi hai fatto vedere prima si no poco più avanti all'inizio della via va bene quindi siamo arrivati ce l'abbiamo fatta prossima tappa Pietrasanta Pietrasanta da chi? Andrea Geloni Andrea Geloni e Valentina della libreria Nina è tutto in rima? eh sì ho scelto apposta proprio pensa a te sì sì scelgo prima i nomi dei libri capisco se possano funzionare nella narrazione altrimenti la tappa non si fa giusto allora visto che è un po' che non lo stai facendo chiudi tu con il tuo palmo magico no perché io di solito chiudo con questa cosa qua spengo la luce e ora chiudi con il palmo chiudo con il palmo magico ragazzi ciao ragazzi ci vediamo il 24 di agosto ciao papi tempo bravo questa resta ciao ciao ciao